Ciao Palermo! Ciao Palermo! Ciao Palermo! Ciao Palermo! Ciao Palermo! Eva! E non c'è pioggia, e non c'è vento che può spostare l'epicento dei miei occhi su te, può spostare l'equilibrio dei miei occhi su te, perché siamo noi da in mezzo di un applauso. Applausi! Buongiorno! Grazie! Eh, ma vai ci vedete la maglie! Questa canzone, cantiamola insieme. Grazie! 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 Grazie, grazie! Grazie! Grazieúa! La complicità rimane in silenzio, in questa notte siamo bravi, e ti capisci un po' lì. E con me, che alla fine, se mai dovessimo sbagliare, e perché le circostanze fanno la differenza, capovolgo la distanza che si alzere, siamo, siamo l'invito, siamo l'invito. La mia pelle è colpeccia, che si può anche scalfire, la tua giacca si piglia di un raro, e mi portò a scampare. Io ti devo tante cose, la differenza tra luce e le ponte, e il coraggio e l'istintà, e la paura di non far rire. E con me, che alla fine, se mai dovessimo sbagliare, e perché le circostanze fanno la differenza, capovolgo la distanza che si alzere, noi siamo l'invito. Noi siamo l'invito. Noi siamo l'infinire. La tua libertà non è più libera L'è un signo giurà Devo insomma eterna in pratica E non è Che alla fine se mai dovessimo sbagliare E perché capovolgo la distanza che si alzera E ora è sempre Noi siamo infiniti 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 Io lo dico sempre, qua, nemici l'America! 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 Bravo Alex! Grazie! Rimani lì, rimani lì, ti portiamo con noi! Vieni qua, qua, non davanti! Eccoci! E attraversa! Alessio Bernabéi, la bandiera della musica italiana del mondo! Grazie! Alessio! Alessio! Sì! Non è il Sud America, non è questo tuo lavoro sì! È uscito da un po' di settimane. Abbiamo seguito proprio adesso questo club molto estivo! Parla di faloni, amori, di spiagge! Mi sembra che vogli lanciarlo come il tuo numeratore dell'estate! Ce lo facciamo! Ma sì, diciamo che ho voluto raccontare un po' l'estate dei disideri delle persone, quindi l'estate sempre a scatenarsi, a pallare, a rinvoltirsi e vogliamo un po' questa santezza. Alessio, tu sei sicuramente un grandissimo artista, ma insomma il tuo look ha anche funzionato molto, insomma, per far di conosci al grande pubblico. Tu hai questo ciuffo un po' come il maestro Santori, cioè questo ciuffo... Esatto, esatto. Vi assomigliate molto. Allora, dobbiamo fare un esperimento, visto che ci sono alcuni personaggi che in questo momento non trovano molto consenso, vorremmo rilanciare con Luke e Bernabé. Sono molto curioso. E questo primo, per esempio, non so se lo riconoscete, questo signore qua... Oh mio Dio. Siamo con Luke e Bernabé. Come starete? Ecco, vedi? È finissimo, eh? Proviamo a vedere, se lo faccio a caso, qua che adesso sono... Ecco, questo, per esempio, come starete con Luke e Bernabé? Non si è accattinato con la bomba tomica, però. Sono giù nei sondaggi, ma vedrai che dopo il trattamento... È stato l'ultimo, così... E così si sono proprio giù. Eh beh. Dove starebbero? Eccovi. Ragazzi, io ci farei un pensierino, se fossi indossi. Alessia, per la pelle! Grazie! Grazie!